Benvenuti alla puntata di oggi di Stampa Evangelo, oggi è sabato 6 maggio del 2017, come sempre il sabato andiamo in onda in un orario più rilassato, alle 9.55 è l'orario preciso e è anche il giorno in cui mi muovo per Padova per andare a fare le amministrative, la lista per l'amministrativa di Padova, intanto ringrazio gli amici di Ladispo, ieri è una bellissima iniziativa alla Scuola di Teologia della Diocesi, fatemi salutare Stefano Sigali, Maria Marrosu, Thomas Draorad, Andrea Fratini, Nicola Pasqualato, Andrea Dolcini, Rosa Grazia Pellegrino, Ottavio Delugio e tantissimi che nonostante il sabato ci possa essere anche qualcosa di meglio da fare, sono comunque connessi a Stampa Evangelo all'avvia di questa mattinata. Saluto Giovanni Fiori, Luciana Frangioni, Federica Vacca, Andrea Falotico, vi chiedo come sempre un mi piace e un condividi alla diretta in maniera che possa essere fruita da più persone possibili, saluto anche Stefano Tommaso, il nostro amico Mauro Chialastri, lunedì c'è coordinamento del PDF di Roma, lo ricordo a Mauro e a tutti gli amici romani, dall'Umbria da Todi arriva Saimir Smali, c'è Francesca Donzelli con Vladimiro Campello, ci vediamo oggi a Patova, saluto Roberto Bruno, Roberta Nobili, Giuseppe Giovinazzo, dalla Sardegna Alberto Agus, reduce dalla grande iniziativa del Popola Famiglia Accarita di proprio il 4 di maggio. Io ricordo che oggi c'è, oltre la mia presenza a Patova, c'è anche Gianfranco Amato a Milano, saluto Paola Zenn, Eugenia Cruceru, Giuseppe Pileio, Carlo Manili, Federico D'Angeli, Nicola Ocello, Julius Garibold. Con me invece a Patova troverete sia Nicola Di Matteo, il nostro coordinatore nazionale, che Mirko De Carli, che in questo momento è in diretta dal banchetto del PDF di Riolo Terme, dove è candidato sindaco, oggi fa la conferenza stampa di presentazione realista a Riolo Terme e poi si muove e mi raggiunge a Patova, dove insomma ci troviamo con tutto il gruppo dirigente, fatto salvo Gianfranco Amato, che è impegnato come segretario nazionale a Milano. Saluto Anna Russo, anche con Paola Zenn ci vediamo oggi a Patova, anzi chiedo a tutti gli amici padovani di mobilitare davvero più persone possibili per venire a firmare la lista che ci permette di presentarci alle elezioni a Patova. Ecco Flaminia Longobardi con cui ci siamo abbracciati ieri alla Dispoli, grazie Flaminia, è stata una serata davvero splendida, molto intensa, con un gran sacerdote come Don Roberto che ha sostenuto e voluto questa iniziativa. Saluto Francesco Polico, Mauro Piacentini, che è uno che viene a disturbare, ma lo salutiamo. Stefano Tommaso chiede per chiusità quanto sei alto, 1,91 per la precisione. Saluto Paola Ganz, Silvia Suardi, Luciano Gabriele, Stefano Sigali, Anna Russo ci ricorda che con Amato oggi c'è anche Giuseppe Povia a Milano. Allora possiamo cominciare con la lettura del Vangelo di oggi, siamo nel Vangelo di Giovanni al sesto capitolo, versetti dal 60 al 69. Ascoltate bene una pagina di Vangelo davvero straordinaria, davvero bellissima. In quel tempo molti tra i discepoli di Gesù dissero, questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro, Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Questa è la parola del Signore, è la parola di oggi, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, dice Pietro. Davanti a un Gesù che si vede abbandonato dai più, da persone che gli dicono questo è un linguaggio duro, è un linguaggio duro. E per chi vi racconta che il Vangelo è invece qualcosa della easy life del volemosebbene, invece no, è qualcosa che è il linguaggio duro. Paolo Pasanisi ci ricorda che il primo sabato del mese di maggio, e dunque ricordiamo sempre della nostra consacrazione a Maria, al Sacro Cuore Immacolato di Maria, da parte del nostro movimento consacrazione che abbiamo realizzato in Santa Maria Maggiore, giusto un anno fa. Ricordiamocelo tutto questo, questa pagina del Vangelo di oggi è molto importante, il linguaggio è duro, la verità non è una passeggiata di salute, la testimonianza della verità non è semplice, anche avendo Gesù di fronte, quei discepoli dicono che il linguaggio è duro, avendo la forza di avere Gesù di fronte, pensate quanto è difficile per noi, che invece dobbiamo credere, credere alla testimonianza, e allora dobbiamo essere particolarmente forti nella fede per portare avanti una battaglia che, come capite bene, è estremamente complessa. Antonella Iuna dice che il mio parroco dice che tutti sono salvi anche i non credenti, noi non sappiamo chi Dio salverà, e quindi non possiamo che rifarci al Vangelo, e il Vangelo ci dice questo, c'è chi è con Cristo e crede, e giustamente dice Signore da chi andremo, perché a quel punto non c'è alternativa, perché solo tu hai parole di vita eterna, e poi c'è chi non crede si allontana. Il giudizio di Dio non compete a noi, quello che leggiamo sul Vangelo è che però il Vangelo è linguaggio duro, è linguaggio duro. Questo ci aiuta anche a leggere i fatti del giorno, i fatti del giorno sono incredibili, oggi sono veramente incredulo, oggi aprite il Corriere, il Repubblica, nel giorno di vigilia di elezioni francesi fondamentali fra Macron e Le Pen, c'è stato il fuoco in Siria, ci sono una marea di notizie, anche notizie tragiche, l'ergastolo dato a quel ragazzo che ha ammazzato la ragazza, la nube tossica che si è sviluppata su 21 comuni qui vicino Roma, c'era una marea di notizie. Bene, la notizia con cui apre a tutta pagina la prima pagina di Repubblica è un convegno in cui politici, magistrati e giornalisti si mettono d'accordo per la droga libera, per fare lobbying sulla droga libera. Io lo trovo veramente incredibile, tra l'altro tutto questo avviene, prima pagina di Repubblica di oggi, siamo stampa e Vangelo, siamo più sempre una rassegna stampa, leggiamo i fatti, mentre invece sul Fatto Quotidiano, sempre oggi, c'è un'inchiesta che dimostra come nei bagni di Montecitorio si faccia forte uso di cocaina. Allora, mettiamo insieme questi due fatti. Il convegno di Repubblica con politici, magistrati amici e giornalisti amici che fanno lobbying per la droga libera. Il capo dell'intergruppo parlamentare che ha fatto una proposta di legge per la droga libera in Parlamento, si chiama Benedetto della Vedova, è un ex radicale, ex colonnello di Gianfranco Fini, oggi trasmigrato a fare l'uomo di governo renziano, sia nel governo Renzi che in questo governo Gentiloni. Bene, capofila questo Benedetto della Vedova di un intergruppo parlamentare che vuole liberalizzare la droga e nel giorno stesso il Fatto Quotidiano fa un'inchiesta e scopre che nei bagni di Montecitorio i deputati fanno uso di cocaina, vanno lì con dei reagenti, con una telecamera nascosta e dimostrano che l'uso per la cocaina è del giorno stesso in cui hanno fatto l'inchiesta con i reagenti. Ora, mettete e fate il 2 più 2 se questo convegno che dura due giorni peraltro, su cui noi scriviamo un editorialino oggi sul Coriano La Croce piuttosto puntuto, vi suggerisco di leggerlo, se questo convegno di due giorni dall'altra parte c'è anche il consumo di droga nei bagni di Montecitorio, sembra proprio che ci sia, come dire, conflitto di interessi per certi versi. Questi politici vogliono una droga libera per poterla consumare liberamente senza giudizio sociale. Davvero è incredibile che con quello che sta passando nel nostro Paese la priorità per i nostri parlamentari sia fare leggi del genere o addirittura fare convegni del genere con i magistrati, addirittura con uno della Procura Nazionale Antimafia che viene da un'intervista a Repubblica spiegando che la droga deve essere prodotta dai monopoli di Stato. Ragazzi, siamo alla follia. Nicola Di Matteo è entrante a Roma Termini, parte per Padova, è il primo a partire per Padova, dopo ci raggiungerà Mirko De Carli, poi arriverò io e alle 18 oggi facciamo il convegno a Padova per accogliere le firme per la lista del popolo e della famiglia anche a Padova, territorio dove peraltro l'incidenza della droga è pesantissima sulle giovani generazioni. E questi invece di pensare, come dice Stefano Martini, a tasse di soccupazione, sicurezza e migranti si mettono come priorità non per le sinistre, è Benedetto della Vedova, è un colonnello di Gianfranco Fini, l'intergruppo parlamentare è di centrodestra e di centrosinistra e insieme per loro la priorità è varare la legge che liberalizza le droghe. Ora, questo è davvero surreale perché le priorità, dice bene Stefano Martini, sono davvero altre, sono davvero altre. Anche questo concetto, se tu liberalizzi la droga togli i soldi alle mafie, non è vero perché la droga del monopolio di Stato, essendo prodotto chimico, potrà sempre avere da parte del mercato parallelo illegale l'invenzione di sostanze psicotrope sempre più devastanti, come fanno ovviamente i chimici, inventandone sempre di più efficaci dal punto di vista della sostanza psicotrope che fa il monopolio di Stato? Si mette a rincorrere le mafie nella loro produzione di droghe con effetto sempre più devastante? Allora io dico, secondo me è una follia proprio pura, una follia pura che non toglie gli introidi alle mafie, semplicemente rende lo Stato spacciatore e impedisce ai genitori di fare quell'azione educativa normale che è a dire guarda che drogarsi è sbagliato. Quando tu metti e immetti le sostanze del libero mercato, come hai fatto con l'alcol, come hai fatto col fumo, quella sostanza è eticamente liberata da una dimensione di vincolo. Il fatto che lo Stato vieti la droga permette di dire al genitore rispetto al figlio che magari va a cercare che stai commettendo un atto illegale, rischi il carcere. E invece di sostenere le famiglie in questa battaglia contro il male, lo Stato che fa, secondo Costoro, magistrati, politici, giornalisti, deve mettersi a fare lo spacciatore con i monopoli. Questo è davvero una cosa folle, una cosa folle. Jacopo Pioli suggerisce di vedere Smetto quando voglio su questo argomento, un film di Sidney Sibiglia. Monica Consigliere dice così, viene banalizzata la droga. Ottavio Deludio, Stato spacciatore, poi assassino, poi che altro? Purtroppo è davvero questo, sembra che davvero la barriera etica sia completamente persa. Chi parla di etica è bacchettone, bisogna ridurre il danno, la riduzione del danno si fa come? Mettendo la droga a disposizione di tutti in tabaccheria. È davvero qualcosa di folle. È come la faccenda delle sale giochi, come dice Nicola Ocello, si sono centuplicate, si sa che sono gestite dalla criminalità che ci investe i soldi provenienti dal crimine. Nicola Di Matteo rivolge un appello a tutti gli amici di Padova e dintorni. I cittadini padovani vengono alle 18 per firmare la lista del popolo della famiglia. È qualcosa di decisivo. Andrea La Rosa dice che nella classe di sua figlia il 90% degli alunni fuma. Dobbiamo tenere duro, ci siamo solo noi, dice Andrea La Rosa. È solo il popolo della famiglia che continua a essere moralista, bacchettone, ma noi continuiamo a dire che è una follia togliere dalla famiglia l'arma etica nel contrasto alla sostanza psicotropa. Anna Russo dice che siamo alla fame, invece di legalizzare le droghe rendano più facile la sopravvivenza del popolo. Antonella Iuna dice che si dovrebbe ammettere solo per scopi terapeutici, sotto controllo medico. Michela D'Adamo dice che purtroppo oggigiorno anche molti adulti sono dediti a tale consumo. Esattamente quello è il problema. Molti parlamentari, molti magistrati. Noi abbiamo titolato l'editorialino di oggi, le canne fanno male, proprio pensando a tutti questi legislatori che si fanno le canne e adesso vogliono fare la legge per averle libere. È una cosa folle. Giovanni Fiori dice che è un diktat mondialista per sballare il popolo e renderlo sempre più facilmente gestibile. Esattamente così. Ha ragione Giovanni Fiori. Saluto Carla Stefanini che dice buongiorno a tutti, solo pdf. Allora intanto per dire solo pdf facciamo un bel mi piace, un bel condividi a questa diretta affinché questa denuncia che facciamo sulla droga sia una denuncia che percepiscano più persone possibili rispetto al nostro mondo. Un mi piace e un condividi alla diretta per farla conoscere. Saluto Don Massimo Lapponi, saluto Paolo Ruotolo che dice droga libera, eutanasia, figli in vendita, è una corsa folle verso il precipizio. Voi sapete che solo il popolo e la famiglia è il freno a questa corsa folle verso il precipizio. Roberto Ponte dice persa la capacità di autodeterminarsi nelle scelte chiave occorre la droga che fa azionare un surrogato di volontà. Saluto Danilo Bassan che dice le droghe fanno male, non esistono droghe leggere o pesanti, c'è Camillo Giacchetti, la legge sulla legittima difesa puzza di canna lontano un miglio, ha ragione Camillo, bravo Camillo, bellissima osservazione. Saluto Adelio Cavina, Marco Pennetti, Franco Raffaelli, Giulio Suardi, gli spinelli sono tagliati con l'eroina, Giampiero Pisu, troppi soldi ai politici e non vedono più la realtà, sono per lo stipendio per una vita dignitosa e non oltre. Saluto Cristina Chio, saluto Romana Cordova, questi passaggi sono passaggi fondamentali del programma e dell'azione del popolo, della famiglia. Saluto Felice Liccardi, Vladimiro Campello mi chiede un appello per le firme anche a Fontana Fredda in provincia di Pordenone, ci stiamo presentando anche in provincia di Pordenone, gli amici di Fontana Fredda o chi conosce persone a Fontana Fredda mandino a firmare le liste del PDF, così come oggi a Padova facciamo alle 18 una grande iniziativa per raccogliere le firme per sostenere il popolo della famiglia. Saluto Stefano Sigali, è più forte il desiderio di drogarsi. Saluto Ezio Monticone, saluto Prisca Vegni, saluto Orazio Filippelli che dice come mai non è possibile firmare il 2x1000 al PDF? Per firmare il 2x1000 dobbiamo avere o un eletto in dimensione regionale o un eletto in dimensione nazionale. Quando avremo questo potremo avere anche noi il nostro codice. 2x1000. A Genova si candida Stefano Arrighi, consigliere comunale, si firma anche a Genova per presentare le firme, per presentare le liste. Ce lo chiede Monica consigliere, la raccolta firme la stiamo facendo? Il 4 è andato Gianfranco Amato, l'altro ieri. Per sostenere la raccolta firme di Stefano Arrighi basta contattare Stefano Arrighi per Genova e lì si può aggregare alla battaglia del popolo della famiglia su quel territorio. Saluto Alberto Agus che dice drogati, malati di sesso, senza lavoro e convinti di essere liberi. questo è il futuro che vogliono consegnare ai giovani, purtroppo ha davvero ragione Alberto Agus, questo sembra essere il futuro immaginato da questo seminario, da questo consesso di politici, giornalisti e magistrati purtroppo che dove vogliono arrivare, chiede Marco Berardi, alla dissoluzione della famiglia. Ricordatevi, la finalità è la dissoluzione della famiglia. Saluto Davide Raffaele Arcuri, saluto anche il nostro Cristiano Zuccarini che arriva con la sua maschera, diciamo così, a salutare in maniera irridente ma tutti i giorni segue stampa Evangelo, quindi alla fine è uno dei nostri, un nostro amico, chiediamo anche lui di fare mi piace e condividi sulla vostra pagina, compreso Cristiano Zuccarini che ieri ha messo un posto sceno, mi dice Andrea Fratini. Bene, se trovo, lo dico a Zuccarini, un posto sceno sulla diretta di oggi o sulla mia pagina oggi, su questa pagina non scrivi più, così te lo dico chiaramente in diretta perché va bene tutto ma non essere osceni. Saluto Alessandro Speri, saluto Carla Stefanini, saluto Dario Marcello Soldan, Carla Cristiana, buon sabato della famiglia, c'è il diacono Marco Luigi Pucci anche in collegamento. Allora, Mara Banfi dice che non vogliono liberizzare gli stupefacenti to cure, ma solo la cannabis. Ricordati Mara, cominciano dalla cannabis, ma come sempre, i processi di liberalizzazione, poi ti cominciano a dire che se non c'è distinzione fra droga leggera e droga pesante, perché la liberalizzazione la faccio solo sulla cannabis? Se la finalità è togliere introiti alla criminalità organizzata, la criminalità organizzata, gli introiti veri li fa sulle droghe sintetiche, sulla cocaina e sull'eroina, è il 95% del business. Se passa quel criterio, perché fare solo la cannabis? La liberalizzazione inevitabilmente in pochissimo tempo diventerà liberalizzazione, la sostanza psicotropa to cure. Inevitabilmente sarà così. Natalina Minuz dice, ma come i nostri vescovi che non sentono i magistrati contrari, anche loro zitti? I vescovi, ragazzi, dobbiamo stimolarli noi. Il popolo della famiglia serve anche a questo. Alcuni sacerdoti che seguono il popolo della famiglia, che vengono a fare convegni con me, dicono chiaramente che il popolo della famiglia è un'occasione di salvezza anche per la Chiesa. Quindi svolgiamo questo ruolo e portiamo le nostre osservazioni all'attenzione anche dei vescovi nelle diocesi. Saluto la Pongiluppi, prima la Cannabis, poi la Coca, poi l'eroina, stato fattone. Questa denuncia, signori, è fondamentale, la denuncia fa solo il popolo della famiglia. Quindi facciamo girare questa nostra diretta di oggi. Un mi piace e un condividi. Capite perché difendiamo la famiglia? Capite perché la Chiesa difende la famiglia? La famiglia l'ha inventata Dio, non l'abbiamo inventata noi. E Dio non può sbagliare. Una citazione del cardinale Angelo Comastri, fatto da Francesco Colamonaco. Abbiamo incontrato a Trieste il cardinale Comastri. Saluto anche Stefano Martini che dice che se lo Stato vende la droga leggera, la malavita ti venderà la droga leggera a prezzi più bassi, ma sicuramente non si ritirerà dal mercato. È ovvio, anche perché lo Stato dovrà vendere sempre a prezzi alti, perché lo Stato paga tutto, paga i lavoratori, paga luce, gas, la criminalità organizzata, paga tutto la metà, quindi può permettersi un prezzo molto più vantaggioso. Saluto Michela D'Adamo, Ottavio cerca il contatto con Nicola Di Matteo, scrivetevi in privato, anche qui su Facebook. Saluto Francesco Parra che dice che legalizziamo, io leggo e ti dico che noi del popolo della famiglia impediremo la legalizzazione delle droghe, leggere o non. La nostra battaglia costante impedirà l'approvazione di una legge sulla liberalizzazione, come? Entrando in Parlamento nella prossima legislatura e essendo garanti dell'impedimento all'approvazione di leggi contro l'uomo. Questo sarà il lavoro svolto dal popolo della famiglia in Parlamento, per questo chiediamo il consenso ai cittadini italiani fin da queste amministrative, come l'abbiamo chiesto alle amministrative scorse, Francesco Parra dice avete l'1% se vi va bene, oggi l'1%, vediamo l'11 giugno a che percentuale è arrivato l'1% del popolo della famiglia e vedete poi come alle politiche del 2018, questo 1% del 2016 che si sarà trasformato nel 2,5% nel 2017 non diventerà il 3% che supera lo sbarramento nel 2018 e se noi superiamo il 2018 questo sbarramento noi impediremo l'approvazione di leggi contro l'uomo. Diremo no alla droga libera, no all'utero in affitto, no al matrimonio egualitario, no all'eutanasia, no alla limitazione e l'obiezione di coscienza per i medici cattolici, questo sarà il lavoro del popolo della famiglia per dire sì a un'inversione di priorità che porta risorse verso la famiglia, che indica il diritto universale a nascere come diritto fondamentale contrapposto al diritto ad abortire, che vara il reddito di maternità, che mette in condizioni la famiglia di essere luogo della ripartenza anche economica dell'Italia. Questo è il lavoro che svolgeremo e per il quale chiederemo i consensi a queste amministrative così come le chiediamo alle politiche. Se ci saranno questi consensi l'Italia non vedrà la stagione del varo di una serie di leggi contro l'uomo. Se il popolo della famiglia non entrerà in Parlamento inevitabilmente la prossima legislatura repubblicana sarà quella del varo di queste normative che travolgeranno l'ordinamento giuridico italiano, ad oggi ancora sufficientemente decente per impedire norme del genere. Questa è la posta in gioco, questa è la ragione per cui noi come popolo della famiglia siamo in campo con il nostro simbolo in posizione autonoma in tutta Italia da Fontana Fredda ad Avola, dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla Campania, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, ovunque troverete dei nuclei del popolo della famiglia organizzati, presenti sul territorio, candidati alle amministrative che fanno una fatica boia in queste ore per raccogliere le firme in tutto il territorio nazionale e presentare le liste. Questa fatica è fatta da migliaia di persone che hanno già raccolto decine e decine di migliaia di voti nella tornata amministrativa del 2016 e si prestano a prenderne altri in questa tornata amministrativa del 2017. Questi sono i fatti. Per qualsiasi connessione con il popolo della famiglia, la connessione con il nostro coordinatore Nicola Di Matteo che risponderà a tutte le esigenze, basta contattarlo anche qui su Facebook, per entrare nel mondo del popolo della famiglia, per diventare tesserati del popolo della famiglia, per diventare nostri sostenitori. Il lavoro è un lavoro importante che dobbiamo compiere casa per casa, come dico sempre, altrimenti tutto questo che vi sto raccontando, compesa la legge sulla droga libera, inevitabilmente diventerà normativa dell'ordinamento giuridico italiano tramite un Parlamento irresponsabile che è il Parlamento dei cocainomani, come dimostrato oggi dal Fatto Quotidiano. iniziativa di Amato oggi a Milano è al Rosetum, Amato con Povia è al Rosetum, Marco Berardi dice fermare le politiche di suicidio demografico e culturale, assolutamente questo è il ruolo da svolgere, saluto anche Federico Bieroni, saluto anche Giuseppe Annicchino che è appena arrivato, saluto Andrea La Rosa che dice il popolo della famiglia è il sale della terra, assolutamente una definizione importante, sale non lievito, non ci mettiamo a fare il lievito nei partiti degli altri, ci mettiamo a fare quello che dobbiamo fare, sale della terra, della terra tutta, con la nostra posizione autonoma, libera e che va a difendere il concetto significativo, mentre invece Alessandro Speri dice giustamente che bisogna mandare il Parlamento a San Patrignano, bellissima immagine. Vi chiedo un mi piace, un condividio a questa diretta, io intanto ringrazio tutti gli amici che sono mobilitati in tutta Italia in questo momento per la raccolta firme per le nostre liste, incoraggio ad andare a firmare in tutti i centri in cui siamo presenti, da Savigliano a Grugliasco a Borgomanero, ad Alessandria, Parma, Riccione, Riolo Terme, Comacchio, Verona, Padova, mi raccomando Padova oggi alle ore 18, Conegliano, abbiamo in presenza a Monza, a Crema, a Bacoli, a Ischia, a Melito, a Davola, a Civitanova Marche, dunque siamo ovunque, c'è bisogno però della mobilitazione di tutti in tutti i territori in cui siamo presenti, ovviamente raccolta firme a Genova che è la città più difficoltosa perché essendo anche la più popolosa richiede ben 750 firme per la presentazione della lista, minimo 750 firme, quindi il lavoro è molto complesso, così come anche a Padova il limite è di 350 firme, sì Bacoli l'ho citata, cara Nicola. Oggi è importante però che tutti i cittadini di Padova, se avete amici che sono a Padova, mobilitateli perché facciamo questa iniziativa alle ore 18 per la raccolta firme del popolo, della famiglia. Io intanto ringrazio anche gli amici di Ladispoli ieri per l'iniziativa, molto bella, ricordo ai Romani che l'otto sera facciamo coordinamento romano a Via dell'Ambaradam, le indicazioni c'era sempre Nicola Di Matteo, otto sera coordinamento dei Romani che hanno sostenuto, peraltro la lista di Padova, molti del PDF di Roma sono candidati a Padova con spirito ovviamente semplicemente di servizio per la costruzione della lista. Come dice bene Paolo Ruoto, l'aiutiamo Paola Gnocchini, candidato sindaco del popolo e della famiglia a Civitanova Marche, Alessandro Speri vuole che gli togliamo il canone Rai dalla bolletta della luce, promesso, la privatizzazione della Rai è una bellissima idea, vieni e candidati con noi, saluto Federico Pieroni che sta leggendo la conversione di San Paolo e sta riflettendo su quanto ognuno di noi è chiamato, pur col suo passato e i suoi difetti, a non temere a testimoniare, coraggio amici, saluto Ninnarello, saluto Consueto Nespoli, è arrivato anche Costantino Montebove, vi ringrazio intanto che ieri abbiamo fatto un record d'ascolto meraviglioso, 6500 persone, davvero tante per Stampe e Vangelo, davvero grazie, oggi anche i numeri sono incoraggianti, il popolo e la famiglia TV continua ad avere un grande pubblico e grazie davvero dunque per questi numeri. Marco Rapetti Arrigoni dice che dopo i disastri di Bitonci a Padova la partita è aperta, Alessandra Tumino ci informa che Filippo Grigolini ha raccolto già 600 firme e oggi ne raccoglieranno ancora, ci aspettiamo un grande risultato a Verona del candidato sindaco Filippo Grigolini dove possiamo davvero immaginare un risultato importante, saluto Angeli Cabosio, saluto Andrea Cavenaghi, Consuelo Nespoli ieri era a Stezzano con Povia e Amato, spettacolo fantastico, benissimo, vi ricordo oggi un mi piace e un condivido alla diretta per la nostra denuncia sul tema della legge sulla droga libera e sul convegno che ha riunito politici, magistrati e giornalisti che si concluderà oggi con l'apertura del giornale di Repubblica, purtroppo nel giorno in cui si dimostra che nei bagni della Camera i deputati fanno consumo di cocaina e le cose stanno insieme. Emanuela Bongiluppi Leuteri ci informa dal coordinamento editoriale che andiamo veloci verso i due milioni di visualizzazioni per PDF e TV, un risultato davvero straordinario se pensate che siamo nati appena nel settembre del 2016, davvero davvero grazie, grazie al lavoro della Pongi, di Centofanti, di Marco Buono, di Giovanni Marco Tuglio, di tutti gli amici che ci seguono e che fanno le 21 trasmissioni televisive prodotte da PDF e TV, due milioni di visualizzazioni sono qualcosa di davvero importante, ricordiamoci anche il canale Popola Famiglia TV su YouTube. Saluto Adriana Di Donato, Paolo Ruoto lo dice giustamente, chi ci sottovaluta sbaglia di grosso, sono convinto anch'io caro Paolo, vi chiedo dunque il mi piace e il condividi, adesso devo scappare che devo prendere anch'io il treno che mi porta verso Padova, ci troviamo a Padova alle 18, lo ricordo, saluto anche Anna Russo, alle 18 a Padova, se avete amici a Padova ricordate fatemi una telefonata, andassero a firmare le liste del Popola Famiglia al convegno alle 18, saluto anche Danilo Bassanco in cui ci vediamo tra poco, un abbraccio a tutti voi, buon lavoro, buon fine settimana, come dice Matilde Angioletti, testimoniamo la verità perché la verità viene sempre ripagata. Saluto anche Prisca Vegni, saluto Sabino Sabini che ci accompagna sempre con il gruppo Preghiera Popolo della Famiglia, saluto Rita Mesiti, lavoriamo tutti insieme per la vittoria del Popola Famiglia e per salvare questo Paese dal baratro, è veramente necessario, la responsabilità ricade sulle nostre spalle, un mi piace, un condividi alla diretta di oggi affinché sia fruibile da più persone possibili la nostra denuncia di oggi, fatemi salutare anche Rosalba Tavella, Rita Mesiti, Maria Cristina Maculanna, Flaminia Longobardi. L'appuntamento oggi a Padova, ci informa Nicola Di Matteo, è presso l'hotel NH in via Tommaseo 61, ricordate dunque se avete amici a Padova mandateli dalle 18 all'hotel NH in via Tommaseo 61. Io vado a salutarvi Sant'Antonio come chiede Nicola Ocello, Stefano Sigali dice c'è anche chi pensa che il PDF non sia l'unica strada e chi lo pensa sbaglia, viva il Popolo della Famiglia sempre come dice Alessandra Tumino, Marco Rapetti Ariconi vorrebbe lo speciale Stampa e Vangelo per il ballottaggio francese come per le presidenziali degli Stati Uniti, non chiedere troppo alle mie povere forze, io già devo fare tutta la serata padovana, poi cercherò di riposarmi, ma vediamo se c'è qualche clamorosa novità magari ci connettiamo anche con una diretta di Stampa e Vangelo. Saluto anche Carla Lodi da Forlì, Elena Roncarati, Francesco Pisciotta, Anna Russo e forza andiamo a vincere in questa volata finale per la presentazione delle liste del Popolo della Famiglia, andiamo a vincere con una importante campagna elettorale grazie a Carlo Cusso che ci accompagna con la preghiera, preghiera, viva il popolo della famiglia, viva il reddito di maternità, scrive Luisa, grazie Luisa, con le nostre proposte andiamo a comandare come dice il buon Rovazzi, diciamo così, un abbraccio anche alla mia Juve che oggi fa il derby mentre io sarò in Vangelo ancora impegnato a Padova e magari il derby con cui vinciamo il sesto scudetto consecutivo, ho scritto un piccolo pensiero regalato alla mia Juventus sull'impresa di essere juventini, lo trovate come post precedente a questa diretta, come dice bene la preghiera, non è la buon giluppo Eleuteri, fino alla fine. Saluto Adriana Bonino, Gasperina, Anna Ligiato con Popola Famiglia TV, Stampe Vangelo, ci ritroviamo lunedì mattina, da Maria Di Nolfi, un abbraccio a tutti voi e forza Juve, forza Juve, ciao, buona giornata, viva il popolo della famiglia.